Bella a tutti ragazzi, sono Luca, siamo su GRID. Oggi dobbiamo fare questa. Tughe è una gara testa a testa tra le anguste strade di montagna del Giappone. Gli eventi Midnight Tughe si svolgono di notte su strada libera. Ogni gara è composta da un unico turno e il vincitore va avanti nella competizione. Avete capito bene, avete capito bene. Strada libera, ci sono le auto che passano. Sì, sì. Ce la farò? No. Solo che qui è un solo turno e chi vince vince. Posso andare lì addosso? Non mi danno. Ah, qui posso anche andarci addosso. Volevo solo provare. Ci ho provato. Adesso giochiamo seriamente. Perché Midnight Tughe lì è difficile. Qui è molto difficile. Basta che sbaglio una curva e lui va e io sono l'unico. E c'è anche in GRID 2, mi sembra. Aspettate, in Giappone si guida a sinistra, giusto? Non bisogna stare un po' attento. Oggi arriva qualche macchina. Una volta ne ho beccata una a luci spente. Nera, tra l'altro. La run dei flash che dove fossero i fari ho avuto. Io sono consapevole che dopo questa gara ci sarà la merda più totale. perché aumenta la difficoltà. Però ancora non ho visto nessuna macchina. Sono tutti in buon rio. L'ho tirata, l'ho tirata. È la fine? Ma che cazzo! Ma non si può! Mi sono sentito molto gabbo di squerro. Non so perché. Ho detto tipo, ma non si può! Come lo dice lui, non so. Per un attimo mi sono sentito molto gabbo di squerro. Ma non si può! Non si può! Eeeeh, frena cazzo! Ma dove vai che la banana non ce l'hai? Se posso questa gara, attenzione. Ma dove cazzo è la Rivo? Però è tanta roba. L'arrivo non c'è. La gara è infinita. Sempre l'aria. Però mi direte parecchio. Ratta! Dai! Ma dove cazzo è la Rivo? Ho detto, non c'è la Rivo ragazzi. Poi non c'è ancora. E non ho ancora visto una macchina. O si è buggato. Ma si finirò. Tipo, quando finisce la strada. Attenzione. No, anche perché sto pensando come non mai. Intanto ho tracciato le mani a quello lì. Ma non c'è. Ma dove cazzo è? Ma che cazzo è? Ma non c'è l'arrivo. Eccolo. Sì. Devi assolutamente guardare il replay. Non c'è il replay. Come te lo devo spiegare che non c'è il replay? Ok. Ciao Raven West. Domani viene da male a baby. Vabbè è vero. Che cazzo ve lo dico a fare? Che tanto sto video uscirà tra 56 anni. Beh comunque. Registro chat roulette. Sì. Bene. Questo video è durato poco. La gara è durata tanto. Ma il video è durato 5 minuti. Vabbè comunque. Allora qui posso farevi anche i saluti così siete contenti. Ragazzi spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un bel mi piace. Commentate un dividete. Iscrivetevi. Seguite il video canale e le playlist. Ma soprattutto divertitevi. Bella a tutti ragazzi. 24 hours of Le Mans è una gara. Chissà perché me lo sentivo. Ci vediamo alla prossima puntata di Grid. Posso vedere che gara c'è dopo. Benvenuti nella nuova stagione. Allora. Battaglia Drift. In Europa. Monoposto. F3. Raga. Raga qui andiamo. Andiamo sulla merda. Io lo so già come va a finire. Qui che cos'è che c'è? Endurance. Mica ci sono l'endurance qua. Oh merda. E qui? Downhill. Downhill Drift. All my night to get. Uh. Guardate chi è che fa la promozione qua. GT2. No raga qui è tosta. Io lo dico. Oh merda. Ok ragazzi. Facciamo così va. Vi lascio la suspense. Alla prossima puntata. Balla tutti ragazzi. Alla prossima puntata. ito. Grazie.